Ciao a tutti ragazzi, per motivi di diritto d'immagine, la foto seguente è una foto semplicemente a scopo illustrativo per chi conosce il personaggio di Gabrix. Le foto di Gabrix non possono essere divulgate su social network né tantomeno su piattaforme come YouTube, quindi onde evitare problemi legati alle foto di Gabrix sarà usato Diaz come esponente dell'immagine di Gabrix. Vi auguro una buona visione e che questo video possa divertirvi. 3, 2, 1, ciak! Figlio mio, com'è cresciuto! Ora va dietro alle femmine su Twitch! Mi sembra ieri? Mi sembra ieri? Mi sembra ieri che mi chiedeva consigli per le formazioni. Oggi invece caccia il cash per le tette. Sono fiero, sono fiero di te. Ricordati che anche se passerà del tempo e tu ti allontanerai perché crescerai, il tuo papà sarà sempre qua per te, in ogni momento. quando avrai bisogno e quando non avrai bisogno. Ci sarò sempre. Ricordati questo Gabrix. le tette sono temporanea, ma un papà è per sempre. Vola piccolo Angelo, vola. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!